Daniele Riva, Presidente Confartigianato Imprese Lecco, quest'oggi viene presentato ufficio essere una nuova società in collaborazione con Apileco Sondrio. Sì, in realtà è una rete tra le due associazioni, è un'attività che noi facciamo da ormai 12 anni insieme e abbiamo deciso in questo caso di perfezionalizzare il rapporto che abbiamo. Abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per seguire le imprese sulle export e visto il successo di questo lavoro abbiamo deciso di formalizzare il nostro intento e in questo caso abbiamo fondato questa rete di imprese che in realtà è la rete di Confartigianato e Api. A chi è rivolta questa rete? Solo i vostri associati? Dunque, principalmente i nostri associati ma in questo caso essendo un soggetto terzo diciamo delle due associazioni è a disposizione anche di qualsiasi altra impresa per cui è aperta sicuramente anche ad altre imprese. Quali sono gli obiettivi di questo ufficio estero? Ma sono quelli che abbiamo svolto in questi 12 anni, in pratica accompagnare le nostre imprese, sappiamo tutti che il Lecchese è molto forte per quanto riguarda l'esportazione quindi dicevo accompagnare le nostre imprese nell'attività estera che può essere solo quella di contatto e ricerca di nuovi clienti oppure presso fiere oppure attività di marketing oppure tutto quello che riguarda l'estero in sostanza. Luigi Sabadini, presidente Api Lecco Sondrio, come nasce Ufficio Estero in collaborazione con Confartigianato Imprese? Noi Confartigianato Imprese abbiamo creduto nelle professionalità che esprimeva a suo tempo l'export era ritenuto un carrozzone, qualcosa che non serviva noi invece pensavamo che le piccole e medie imprese avessero bisogno di questa professionalità per lanciarsi sui mercati esteri. Il lavoro è stato un lavoro di incubazione, in questi anni abbiamo messo a punto dei servizi che vanno dallo scouting dei clienti all'estero, accompagnamento alle fiere e soprattutto follow up. Ora ritorna con una veste aperta ad altre associazioni che vogliano supportare le proprie imprese in questo territorio. Ecco, come mai fare questa rete e non continuare con la collaborazione precedente? Proprio perché vogliamo dare il segnale di apertura al territorio non ci accontentiamo di fare qualche cosa che resti nella nostra parrocchia ma vogliamo che se ha dei benefici, questi benefici siano ripartiti su tutte le imprese del territorio. Tenga presente che tutto sommato le imprese del territorio sono tutte piccole e medie imprese quindi assolutamente bisognose di essere accompagnate in questo percorso all'estero. Grazie a tutti.